Quali sono le cause più frequenti delle coliche gassose nei lattanti? Le cause delle coliche gassose non sono ancora state completamente chiarite ed è verosimile che siano multifattoriali. Quindi è compito del pediatra riuscire a stabilire se il pianto del bambino è un pianto da malattia oppure un pianto che è legato ad una semplice colica gassosa che verosimilmente è dovuta all'incapacità e alla incoordinazione che i piccolini nelle prime settimane di vita hanno tra la contrazione dei muscoli addominali e il rilassamento anale per avere una evacuazione volontaria. Grazie